Chi è? Chi è? Chi è? che si è venuto e ragazzi e ragazzi, vediamo che il tutto qui in cui è venuto e il tutto in cui è venuto e ragazzi, vediamo che in quanto tempo la panna è venuto e ragazzi, fatti fatti la ruota è finita non si non si fatti Non vieni a me, non vieni a me alla notary video che non vi piace e quindi non vi piace Le non vi piace molto ci sono massimo che ci sono che ci sono dei miei video per dire che ci sono tutti i miei video Per questo video posso dire che ci sono 1K views e 100 likes e non and guys weather is also very high, it's not good, it's a bit of a stormy, and now we are going on a little ride, and we will see what is going on, and guys, now we have a little bit of a stormy here, but the storm is very cloudy, and yesterday the storm is very high, and this means today in Himachal Pradesh is very high, we are going to see how much more damage is. And every place has gone on, and now we are going to slide things that way. From the bottom of the road, we are going to try traveling. We'll try traveling and avoid so much, you can try traveling because we have to try traveling to bring up. perché il mondo è molto buono e ora vediamo che il mondo di più e adesso vediamo che il mondo è stato e questa parte è stata e come in quanto è stato e come in quanto è stato e come in quanto è stato e come in questo video ora ci vediamo la città e come in questo video questo è il tempo che è arrivato all'imacchile in Limacchil e i turisti non sono arrivati a visitarci non c'è qualcosa da sempre e ragazzi ora sono arrivato a summer court come and guys, aaj kall safe season laga, isliya idar picupi picupi har jaga or idar bio e qui si vedete che il rio è bloccato che c'è un po' di rio che c'è un po' di rio se pensate che se c'è un po' di rio che c'è un po' di rio quindi non sopita io ho messo qui qui ho messo perché sempre può rimanere così come sempre qui sono sempre qui qui comunque and guys and guys and guys and guys and guys . . . . . . Iscriviti al nostro canale un'amore dell'immagrazione Il nostro corso di Polignano per i prossimi giorni vedi ma anche ora ne sto vedendo disegni vetete ma sicuramente poter sanno questo è stato un po' di più e voi potete vedere quanto riguarda il flore in quanto riguarda il flore ora faccio il flore Grazie a tutti.